Il percorso basato sulla tabellina del 3 si ferma all'ottava giornata. Lo spoleto capolista dopo sette vittorie e iniziali di fila si impantana nella sfida del comunale e cede a sorpresa 1-0 all'Atletic Bastia che alla fine ha anche meritato il successo. Vero che lo spoleto ha avuto delle occasioni importanti per rimetterla in sesto ma i bastioli hanno anche visto il possibile raddoppio, infrangersi per due volte sui legni. Andiamo a vedere le immagini del match. Spoleto senza Mereo e Pazzogna, in difesa quindi Matuzalem e Quaglietti. Formazione di raggi che da subito fa viaggiare il pallone per il campo con l'obiettivo di stanare l'Atletic. I bastioli però sono i primi a farsi vedere al decimo, errore in disimpegno di Indedi che favorisce Paparelli in ottima posizione ma la difesa spoletina fa muro e si salva. Ancora gli uomini di coraggio al tredicesimo, velenosa punizione di Marini che Cherubini deve alzare in corner. I padroni di casa fanno fatica a manovrare e a trovare le giuste aperture, ben irretiti dalla granitica disposizione ospite. Solo al trentesimo la prima occasione per i biancorossi di casa con Giustini che non riesce a girare in maniera efficace su un angolo di Paci e la palla sfida sul fondo. Spoleto un po' appannato ma che alza il baricentro. Ci prova da calcio piazzato al trentaduesimo Cola che da posizione centrale non c'entra però lo specchio. La migliore occasione per la capolista ed anche di tutto il primo tempo arriva al quarantaduesimo quando una serie di rimpalli al limite favorisce il giovane Leone che però vede il suo tiro raso terra sfilare alla destra di Lorenzetti. Al quinto della ripresa la buona vena mostrata nel primo tempo dall'Atletic Bastia trova i suoi frutti. Perfetto il passaggio in diagonale di Battistelli per l'insegnamento di Aruna che riesce a concludere verso la porta nonostante il ritorno della difesa spoletina. Per Berno la palla ha superato la linea e gli ospiti sono in vantaggio. Padroni di casa che faticano a reagire al tredicesimo l'Atletic avrebbe anche la clamorosa occasione per il raddoppio Battistelli viene pescato in profondità con un lancio lungo e scatta verso la porta tiro che supera Cherubini ma che si infrange sul palo. Gli spoletini al diciannovesimo rispondono e danno una grande opportunità per il pari ma Zuppardo ispirato da Andedi solo davanti al portiere tira debolmente e in bocca a Lorenzetti Passano i minuti e l'Atletic è serie ai ranghi in maniera determinata. Ai padroni di casa manca brillantezza e fluidità. Gli ospiti allora prona ad approfittarne ma sbattono ancora contro il legno al trentaduesimo. Fagotti lanciato nella prateria davanti a Cherubini con un pallonetto supera il portiere in uscita ma prende in pieno la traversa. È sempre la squadra di Coraggi con grande personalità a farsi preferire al trentacinquesimo Aruna in azione personale Scaldi Guantoni di Cherubini che respinge. E' Tomassoni dall'altra parte a cercare invece di scuotere i suoi dal torpore. Al quarantesimo il suo sinistro dal limite si stampa in pieno sulla traversa. Poi al primo di recupero ancora Zuppardo scatta in posizione regolare sul pallone buttato avanti da Scocchetti ma l'attaccante tira ancora addosso a Lorenzetti. L'ultimo acuto è al novantacinquesimo ancora con Tomassoni ma la sua punizione vola alta e allora l'Atletico può festeggiare lo scacco alla capolista. Partita giocata benissimo molto calda a livello atmosferico. I ragazzi io lo dico sempre ogni volta che vado al campo all'allenamento gli dico sempre che loro sono da tre anni il mio orgoglio e tanta gente non mi crede quando io dico che ho preso col sorriso lo 0-5 col Bevagna cioè con la delusione che ci deve avere un allenatore ma col sorriso. Prendo lo 0-1 qui a Spoleto con una squadra fortissima col sorriso perché io dico sempre ai giocatori giocate sorridendo perché secondo me chi mi conosce lo sa sul calcio e anche sulla vita io ragito sempre con un sorriso perché secondo me quando la gente è contenta viene tutto bene e anche a livello tattico oggi si è vista una squadra sul pezzo atteticamente stiamo bene concentrati e l'abbiamo fatto davanti a una squadra fortissima. Dopo sette vittorie a questi ragazzi non la sento di incolparli per questo risultato anche se meritato perché il Bastiano non ha rubato niente si è difeso bene con ordine è ripartito ci ha messo un po' in difficoltà soprattutto noi che eravamo senza i due centrali titolari noi però non abbiamo abbiamo fatto poco per poter vincere la partita soprattutto il primo tempo e quindi questo questo è segno che la squadra ha tirato tanto la carretta in questi in questi primi due mesi vincendo sette partite e rifaccio ancora i complimenti alla mia squadra e lo stesso lo faccio al Bastia perché è una vittoria meritata senza senza ombra di dubbio noi dobbiamo ripartire con gli obiettivi che erano quelli all'inizio di stagione di fare un buon campionato morale al era alto perché avevamo vinto sette partite che non è da tutti deve rimanere alto anche in questa sconfitta ecco con questa sconfitta si vede il valore della squadra se reagisce come reagisce per poter fare come ho detto prima un campionato dignitoso senza voli pindarici come si è sentito dire da più parte che se ammazzavamo il campionato grazie